Vediamo il prossimo VideoSense. Io sono Di Re, ho 30 anni e sono la mamma di tre bambini. Diciamo che la mia vita non è stata tutta rosa e fiori. E riacquistare la fiducia in me stessa è stato un percorso lungo e doloroso che ha lasciato segni non solo dentro di me ma anche sul mio aspetto fisico. Ed è per questo che chiedo il vostro aiuto. Il caso di Desiree è già iniziato ed è stato assegnato al mentore Barbara De Rossi. Vediamo l'incontro con Barbara e se Barbara ha deciso di accettare il caso di Desiree. Ciao, io sono Desiree. Molto piacere Barbara. Allora Desiree, io ho visto il tuo video messaggio. Vorrei che tu mi parlassi prima un po' della tua vita. Allora, Desiree viene da una famiglia di genitori separati. E' cresciuta in un paesino piccolino, in Molise. E' stata un'adolescente ribelle, non ha voluto proseguire gli studi. La tanta voglia di voler scappare via da casa mi ha portato comunque a incontrare, tra virgolette, l'uomo sbagliato. Il mio ex marito mi faceva violenza, violenza psicologica e fisica. Un incontro sbagliato che però mi ha regalato la gioia più bella del mondo, i miei bimbi. Per quanto tempo hai sopportato? Sette anni. Ti sei mai chiesta dopo la prima volta che ti è successo? Perché continuavo, perché io non volevo crescere i bambini come magari sono cresciuta io con le mie sorelle, con i genitori separati. Però dall'altra parte dico, ma i bambini sono felici se i genitori sono felici. Grazie a tutti.